Mi ricordo che a me fa, di suggerita dei tromba, ho sentito un giugno che suonava. E nei sogni di bambina, la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di napare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazienza, però è l'unica maniera, di dire sempre quello che mi fa. Non potrò mai diventare direttrice generale, delle volte, ora e mesi. Non potrò mai far carriera, nei giornali della sera, anche perché finire in camiera. Mai nessuno mi darà, il suo voto per andare, o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria, è tutta sempre poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che gente ha, che dottori, che avvocati, che polla di ministri e reputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Ma quando mai, per i dubbi e le domani, che mi assiglierò la mail, vada loro, non ti preoccupare. Sono a tua disposizione, e sempre senza evitazione, loro ti risponderanno. Io ti rispondo, non ne ho, io faccio solo rock e roll. Se mi conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Mi presta, rivivati, mi hanno fatto una grattina, mi hanno detto che finisce male. Se non vado pure io, a raduno generale, della grande festa nazionale. Mi hanno detto che non posso rifiutare i progressi, che anche a loro le volte è successo. Mi sono detto, che sono pazza ed idocente, sono lì riconoscente, ma sovversiva, una mezza criminale. Ma che ci volete fare, non mi sembrerò la parola, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica inizione è quella dell'aria, Dico no, non è una cosa seria E così è se mi parla Ma lasciatemi sfogare Non mettetemi a me strette O con quanto fiate in gola Più vero, non c'è paura Ma che politica, che cultura Sono solo canzonette Non mettetemi a me strette Sono, sono, sono solo canzonette Sono solo canzonette Grazie